Come è andata secondo il desiderato dell'accusa? Ci sono ben 34 assoluzioni e 91 condanne. Come si legge questa sentenza, naturalmente se noi abbiamo fatto delle richieste, è stata unificata in un concetto, il concetto è un'indagine che è nata dall'innovazione ambientale. Il Mastro, il Mico Pedisano, i principali protagonisti di quest'anno, di questa sono state condannate entrambi a dieci anni sulle crisi. E questo aspettiamo che la voglia di apprezzare. Grazie per la visione!